Tutti gli americani, Biden parla alla nazione, dallo studio Vale dopo l'attacco di ieri al suo avversario non siamo nemici, ha detto il presidente, la violenza politica non può essere normalizzata le decisioni si prendono nelle urne con il voto e non con le pallottole ed eccolo Donald Trump il giorno dopo l'attentato non dovrei essere qui, dovrei essere morto, arriverà tra New York Post per fortuna o per Dio molte persone dicono che grazie a Dio sono ancora qui Trump è arrivato nel Milwaukee, nel Wisconsin per la convention repubblicana che giovedì lo nominerà ufficialmente candidato per la Casa Bianca scendendo dall'aereo alzato il pugno, proprio come ha fatto subito dopo l'attentato di ieri ad attenderlo i suoi sostenitori che si sono riuniti anche per pregare per lui Donald Trump è stato sottoposto precauzionalmente ad un'attacca lo riferiscono fonti giornalistiche aggiungendo che l'esame non ha evidenziato niente di rilevante e sarà un discorso incentrato sull'unità, quello che leggerà l'ex presidente americano alla convention repubblicana di questa sera in un'intervista infatti ha annunciato un discorso completamente diverso per unire il paese intanto continuano a essere sotto accusa i servizi segreti restano i dubbi sull'operato degli agenti che hanno evidenziato come la macchina della sicurezza non abbia funzionato e non abbia impedito di aprire il fuoco contro Trump e uccidere l'ex capo dei vigili del fuoco e Donald Trump sanguinante diventa anche statuina del presevo a Napoli nella strada dei pastori di San Gregorio Almeno a realizzare Trump è ferito mentre viene protetto un maestro pastoraio a realizzare il presevo a Napoli